Ancora più accessibile il vostro sito internet anche ai potenziali visitatori stranieri. Sì esatto, diciamo che da qualche giorno ci sono delle importanti novità sul sito dell'Ufficio Turistico dell'Unione Comuni della Presolana al quale ricordo insomma si può accedere attraverso il sito generale dell'Unione dei Comuni che è www.unionepresolana.bg.it Come dicevi tu infatti la prima novità è la traduzione del sito in lingua inglese di modo che appunto anche i turisti stranieri che vogliono visitare il nostro sito possano scaricare in libertà e tutta tranquillità le informazioni di cui hanno bisogno. Quindi sia tutto quello che riguarda le manifestazioni in programma, l'accoglienza ma anche appunto gli itinerari culturali e storici che si possono fare sul nostro territorio. Un'altra importante novità che sicuramente è importante sia per gli turisti stranieri ma anche per quelli italiani è l'inserimento sul sito dell'Ufficio Turistico anche di un booking online. Quindi un sistema di prenotazione delle strutture ricettive del territorio che permette all'utente di verificare la disponibilità delle strutture e poi ovviamente anche di prenotare le strutture direttamente dal proprio pc. Questa credo che sia una grande novità, una cosa molto importante anche perché ormai diciamo che nell'ambito turistico la possibilità di prenotare direttamente da casa o comunque anche solo di verificare le disponibilità delle strutture alberghiere è una cosa ormai diffusissima e di conseguenza siamo appunto contenti di essere riusciti a portare anche questo servizio sul nostro sito. Questo particolare servizio cioè del booking online oltre che in lingua italiana e inglese c'è anche in altre lingue quindi può raggiungere anche turisti diciamo non solo di lingua inglese ma anche di altre lingue. Niente, oltre ovviamente alla possibilità di prenotare per ogni struttura ci sono delle fotografie ci sono delle descrizioni dettagliate delle camere e delle strutture in generale di conseguenza penso che sia un'opportunità importante per tutte le persone che vogliono soggiornare nel nostro territorio. Per il momento siamo partiti con sette strutture che sono dislocate sul territorio di Fino del Monte Onore, Cerete, Songavazzo e Rovetta. Momentaneamente infatti il Comune di Castione ha deciso di non aderire ma ovviamente potrà farlo in un momento successivo in modo che appunto anche il nostro servizio diventi il più completo possibile.